Continua la protesta dei genitori e degli alunni della Scuola Media Damiano Chiesa di Riva, dopo la decisione del collegio docenti di cancellare il tradizionale concerto di Natale per sostituirlo con uno di primavera. In una lettera indirizzata agli insegnanti, i rappresentanti dei genitori scrivono che il concerto rappresenta un evento molto atteso sia dai ragazzi che dalle famiglie. È frutto di un duro lavoro organizzativo egregiamente svolto dal professor Cagliari, con l'aiuto e la disponibilità dei colleghi, e rappresenta un meraviglioso momento di condivisione, partecipazione, impegno ed entusiasmo. Con grande imbarazzo, i membri del Consiglio di Istituzione hanno votato l'approvazione di un progetto alternativo, ovvero il concerto di primavera, che non ha nessuna certezza di essere realizzato e al momento deve essere ancora strutturato nella sua organizzazione. La speranza dei genitori è che venga fatta marcia indietro e venga ripristinato il concerto di Natale e che la difesa della tradizione possa avere la meglio anche rispetto alle perplessità che sul coinvolgimento in un concerto a forte carattere cristiano di studenti di altre culture e religioni. Anche l'assessore comunale all'istruzione Renza Bollettin interviene sulla vicenda, sostenendo che si tratta di una bella e partecipata manifestazione, e anche nell'ultima edizione, ospitata presso la chiesa di Rione De Gasperi, oltre agli alunni c'erano tantissimi genitori, a riprova del fatto che sia un momento molto sentito dalle famiglie. È vero che il repertorio è connotato, prosegue l'assessore, ma alla fine non trovo che vi sia nulla di male nel conoscere i canti natalizi di una cultura millenaria come quella italiana ed europea, anche se si è nati altrove e si ha una religione diversa.